partirà ragazzi circa una settimana fa ho ripreso il quad dopo sei mesi e ho trovato questo paracolpi tutto rovinato sicuramente dal sole quindi ho ordinato un paracolpi nuovo e oggi è arrivato andiamola ad aprire andiamo ad aprire il pacco ragazzi wow molto bello adesso direi di montarlo immediatamente questo lo togliamo subito adesso adesso andiamo a prendere quello nuovo lo mettiamo così È un po' complicato arrivarci ma noi arriviamo ovunque, come sempre. Adesso devo girare dall'altra parte. Direi che ce l'abbiamo fatta, perfetto. Ragazzi questo è il lavoro finito, secondo me è anche molto più bello di quello che c'era prima. Adesso andiamolo ad accendere. Partirà? Adesso ragazzi andiamolo a mettere un po' in moto, sperando che parte. Andiamo al momento della verità. Tiriamo l'aria. Adesso andiamo a vedere. Grazie.